Dottor Caponetti, lei è stato vaccinato proprio nella giornata di ieri a Teramo, vaccino anti-covid, le chiedo subito le impressioni, insomma è stata quella di ieri una giornata storica anche per la nostra regione? Sì, il vaccino si è fatto, è andato tutto bene, benissimo direi, io sto in forma, nessun problema se non un po' di fastidio se muovo il braccio, niente di particolare, come vedete sto al lavoro come sempre, niente di particolare. Ieri sono arrivate i 130-135 vaccini che abbiamo utilizzato per tutta la regione, poi adesso dovrebbero arrivare delle aliquide alle singole AS per il personale sanitario, personale sanitario delle nostre strutture pubbliche, ma anche delle strutture accreditate, ma anche delle case di riposo, per un totale di circa, penso nel mese di gennaio, di circa 6.000 dosi. Dopo queste circa 6.000 persone, circa 6.000 operatori, dovremmo pensare, cioè è già previsto che lo stesso successivo è per gli ultraottantenni, così è scritto nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità, e poi vedremo, poi andiamo ancora troppo lontani, vediamo di fare gennaio e poi a seguire. L'obiettivo è ambiziosissimo, da far spavento, dovremmo vaccinare il 70% della popolazione almeno, quindi oltre 200.000 persone, con un vaccino da ripetere peraltro, quindi è un'impresa davvero straordinaria che sarà difficile da affrontare. Le cautele però devono restare sempre quelle, mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, perché ora è importante non mollare la presa? Assolutamente sì, in particolare nei prossimi mesi, gennaio e febbraio, assolutamente, perché fa freddo, perché non possiamo aprire finestre, perché il virus gira e sta interessando ancora tante persone, e poi perché pensiamo che in particolare a gennaio ci sia una risalita del contagio, quindi assolutamente dobbiamo mantenere le solite note precauzioni. Grazie a tutti.